Come se non bastasse l'emozione per il debutto, per la prima giornata di campionato, in un'atmosfera da tutto esaurito e contro la squadra vice campione d'Italia, quella di domani sarà per tanti giocatori del Pescara, il giorno del debutto assoluto in Serie A. Lo sarà per il capitano Ledyan Memushai, che dopo aver accarezzato la massima serie col Chievo, senza però mai giocare, via pro dalle soglie dei 30 anni. Tra i potenziali titolari sarà la prima volta in assoluto anche per i difensori Francesco Zampano e Dario Zuparic e il fantasista libico Ahmad Ben Ali. A loro vanno aggiunti altri calciatori che, pur avendo già debuttato nella massima serie, hanno collezionato numeri striminziti di presenze, come le 8 di Verre, le 7 di Cristante, le 4 di Manai. E c'è chi, come Alessandro Bruno, sogna un ingresso in campo nella ripresa per l'esordio assoluto a 33 anni, un'età in cui molti sogni calcistici vengono riposti definitivamente nel cassetto. Altri deb, oltre agli ex Primavera, saranno i vari Vittorini, Selassi, Mitrizza e Nicastro, quest'ultimo indisponibile per domani. Non ci sarà neanche Ugo Campagnaro, che è a un passo dalle 200 in A e avrebbe indossato i panni dell'ex. E allora, a livello di esperienza, il Delfino si affiderà alle 115 presenze del neoportiere Bizzarri e alle 41 del difensore Biraghi, cui vanno sommate le gare di liga dallo scorso anno. Da un lato l'emozione, certo, ma dall'altro anche l'entusiasmo per quelli che sono punti di svolta nei percorsi di crescita professionale di ciascun giocatore. E poi un altro debuttante, in panchina, Massimo Oddo, anche se difficile considerarlo tale, vista la carriera da calciatore costellata da trionfi e l'appellativo da allenatore predestinato. Una qualità che questa stagione aiuterà a testare. Una cosa è certa, rispetto a quattro anni fa il Pescara, che si presenta ai nastri di partenza, ha mantenuto ossatura e identità della scorsa stagione e non è un agglomerato eterogeneo di giocatori malamente assemblato. Oltre agli innesti già perfezionati, la rosa va ulteriormente potenziata e su questo si lavorerà nei prossimi dieci giorni, ma per le prossime 36 ore il mercato passa in secondo piano e il momento del calcio giocato è il momento di Pescara-Napoli.